E siamo qui sotto al sole di Rimini insieme a Silvia Ziche. Silvia ma che cosa stavi combinando sotto gli ombroni? Che attività stavi facendo? Stavo morendo di caldo, a parte questo. Non si vede per niente? Allora no, stavo facendo dei disegni per le persone, per gli appassionati che sono venuti a Rimini Comics, a Cartoon Club, che sono tanti. Sì, devo dire, io almeno facevo i disegni all'ombra, loro invece facevano una fila al sole, quindi degli eroi ai quali ovviamente ho fatto dei disegni perché insomma andava premiata questa costanza. Ovviamente sia te che i nostri appassionati. Ultima domanda, tu hai realizzato la copertina dei Rimini Comics, come è nato questo personaggio? Ma allora, la locandina è stata fatta con il mio personaggio che è Lucrezia, che è nata tanti anni fa perché volevo raccontare i cortocircuiti delle comunicazioni tra le persone. C'è molto da raccontare perché lo sto ancora facendo da quasi vent'anni, diciamo, ormai ci avviciniamo ai vent'anni. Quindi quando mi hanno chiesto di fare una locandina per Cartoon Club, Rimini, la spiaggia, diciamo che mandare Lucrezia al mare mi sembrava la cosa giusta. Poi tra l'altro l'ho fatto in un momento in cui avevo una voglia pazza io di andare in vacanza e di andare al mare, per cui non avevo alternative insomma, poi lo andava fatto. Va benissimo, Sivia, noi ci ringraziamo tantissimo. Grazie a voi, ciao. Andiamo a rifrescarci.